Scende nuovamente in strada la solidarietà nel quartiere Aretino della Marchionna. È tornato infatti l'appuntamento con il mercatino, giunto ormai alla sua quindicesima edizione, che si è confermato uno tra gli appuntamenti più attesi dagli Aretini. Il mercatino della Marchionna, animato dalle famiglie residenti e dai commercianti della zona, come principale obiettivo quello è di aiutare il prossimo, in primo luogo, l'associazione Aretina Pole Pole, ma anche tante altre realtà. Abbiamo raggiunto in questi anni, abbiamo superato i 160 mila euro, per cui sappiamo bene come indirizzarli, ogni anno decidiamo, soprattutto ora in questi ultimi anni la maggior parte del nostro ricavato va a pro dei medici, dell'associazione Pole Pole, i medici di Arezzo, infermieri che lavorano in Africa, in Tanzania e nel Chad. Poi abbiamo da aiutare ormai da qualche anno, siamo gemellati con una coppia di sposi dell'Altitalia di Brescia, che lavorano da 37 anni in Ecuador e più altre necessità locali, associazioni, cioè il velocipide e altri, e anche da due o tre anni un fondo parrocchiale sembra strano per aiutare le famiglie bisognose. Pole Pole in lingua siwaili, che è la lingua della Tanzania, significa piano piano. Siamo una piccola associazione dove facciamo dei piccoli progetti piano piano, con la buona volontà, con il ricavato anche di queste persone generose che si vedono qui al mercatino, facciamo dei progetti piccoli che servono a un tenore di vita un po' migliore a questi bambini africani.